Non è estate a Castellammare se Amici della Salute e Onlus non portano in scena un qualcosa per la raccolta fondi. Sì, ovviamente come ogni anno io ho il piacere di far parte dello staff dell'Associazione Amici della Salute in quanto presentatrice insieme a Mirella Regina dello spettacolo. Abbiamo avuto negli anni passati un successo enorme grazie a tanti artisti che con la loro collaborazione, soprattutto gratuita, il che è importante, danno la possibilità all'Associazione di acquisire più fondi possibili per sostenersi durante l'anno. Quest'anno ne parlerò a Gina Caldarella a breve e avremo l'onore e il piacere di avere con noi Angelo Duro direttamente dalle Iene. Quindi per noi è un successone di anno in anno. Oltre all'ospite d'onore Angelo Duro direttamente dalle Iene abbiamo la possibilità di vedere moltissimi artisti locali quali cantanti, ballerini, ma non solo. Ci saranno momenti in cui toccheremo a fondo e andremo a parlare direttamente con chi ogni giorno usufruisce della buona volontà di questi volontari dell'Associazione Amici della Salute. Vi sostenete con la raccolta fondi, garantite il trasporto per la radio e per la chemio. Nel nostro territorio non ve ne sono strutture di queste, quindi i pazienti sono costretti a spostarsi a Palermo, Bageria, Castelvetrano e voi supportate senza soldi. Sì, noi ogni giorno li trasportiamo. Non è facile economicamente anche e soprattutto perché le spese ci sono. Io devo ringraziare soprattutto tutti i cittadini del nostro territorio, quindi Alcamo, Castellammare, Calatafime che noi ogni giorno trasportiamo, ma anche i cittadini della provincia di Trapane e di Palermo usufruiscono del nostro aiuto. Quindi io, credetemi, invito i cittadini a venire a questa serata perché è una serata di divertimento, ma soprattutto del vostro buon cuore di aiutare questa associazione perché noi andiamo avanti solo con i cittadini. Purtroppo non tutti hanno la fortuna di avere un familiare che li può accompagnare ogni giorno per le terapie. e quindi ci sono persone sole, persone che non hanno nessuno, persone che non possono lasciare il lavoro perché rischiano di perderlo. Quindi il nostro operato nel territorio è fondamentale e per questo io chiedo a tutti i cittadini di aiutarci perché abbiamo veramente serie difficoltà. Il 5x1000 dell'anno scorso ci ha permesso di portare il trasporto fino a giugno di quest'anno. Ora stiamo andando avanti togliendo qualche servizio per poter arrivare ad agosto e agosto con la serata dovremo arrivare fino a novembre per poi aspettare l'altro 5x1000. Se possiamo permetterci questo è veramente grazie a queste manifestazioni al 5x1000 e all'aiuto dei cittadini con le loro piccole donazioni. Grazie a tutti. Vi aspetto giorno 7 all'Arena delle Rose Castellammare del Golfo.